Nel primo giorno di zona rossa in provincia di Pistoia, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni si è recato alla CROSS, la centrale remota per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti di Pistoia. È stata la CROSS a mappare posti letto disponibili in tutta Italia quando, soprattutto nella prima ondata di Covid e in particolare al nord, gli ospedali non reggevano il ritmo dei ricoveri. Durante la visita del presidente della regione, i volontari e i tecnici della CROSS hanno spiegato le varie fasi del coordinamento durante questa emergenza sanitaria. L'appuntamento si è trasformato anche in un'occasione per fare il punto sui dati della pandemia in Toscana. È il terzo giorno di progressiva diminuzione dai 1.374 di ieri l'altro, poco più di 1.200 ieri, oggi 1.100. Si ritorna insomma su quella soglia dei mille che rappresenta la soglia della gestibilità per una zona arancione. Per quanto riguarda il futuro, lo vedremo, io so che noi dobbiamo agire con tempestività come abbiamo fatto a Pistoia e a Siena. Io penso anche che sia molto importante l'alzare l'argine con i vaccini. Per questo io continuo a dire al governo vaccini, vaccini, vaccini. E il presidente Gianni ha voluto ringraziare la protezione civile e tutto il personale per l'impegno portato avanti nelle fasi più critiche dell'emergenza Covid. Man mano che si susseguono le esigenze, ecco che la CROSS riesce ad adattarsi con flessibilità ai bisogni che l'emergenza pandemica richiede. E deve essere un vanto per tutta Pistoia il sapere che il cervello di questa emergenza e di questo trasferimento è attraverso un servizio che questa centrale d'emergenza, appunto la CROSS, riesce con tanta efficienza ed efficacia a svolgere. Grazie. Grazie. Grazie.